Sono Daniele Ceccanti, presidente della Team Italia SRL. La nostra azienda si occupa di fornitura, installazione e integrazione di sistemi navigazione e comunicazione di plancia focalizzati su yacht di medie e grandi dimensioni. Noi ci basiamo su una tecnologia touchscreen che integra un po' tutti i sistemi che si trovano normalmente su una plancia di imbarcazione. Tutta questa integrazione comprende anche il nostro reparto design che può disegnare la plancia in maniera coordinata con la funzionalità in modo da avere sia un'ergonomia migliorata che un'estetica molto accattivante. In questa plancia abbiamo presentato un sistema di head-up display trasparente posizione cockpit, vengono visualizzate tutte le informazioni relative alla navigazione. Alzandolo io riesco ad avere un vero e proprio head-up display, vedere attraverso e posso navigare avendo le informazioni a disposizione ma guardando attraverso lo schermo.